Il voto regionale al vaglio della politica nazionale. Segreterie dei partiti controllano flussi e percentuali di una mini tornata elettorale che ha segnato il doppio successo del centro-sinistra in Emilia-Romagna con De Pascale e in Umbria con proietti. Necessità di tornare a una politica partecipata. Direi che il segnale è proprio per questo, per la regione dell'Umbria. Io devo molta molta riconoscenza perché a partire ovviamente dal mio partito, il Partito Democratico, c'è qui Elislein e Stefano Bonazzini. Il risveglio dunque del cosiddetto campo largo con le forze progressiste da Conte a Renzi unite e il risultato è arrivato, ma da mettere in evidenza soprattutto il grande risultato del PD. Primo partito in Emilia-Romagna oltre il 40% e in Umbria con il 30%. Male invece il Movimento 5 Stelle con percentuali dal 3 al 4%. Quindi veramente orgogliosissimi di questa vittoria per Stefania Proietti che farà benissimo nei Sanzicurei e per i cittadini umbri. Nel centro-destra tiene Fratelli d'Italia, Forza Italia supera la Lega che perde voti bene i centristi. Abbiamo perso sia in Emilia-Romagna che in Umbria, ma per noi i cittadini hanno sempre ragione, sia quando ci danno la fiducia come in Liguria, sia quando ce la tolgono. Il presidente del Consiglio Merone intanto si congratula con i vincitori, ma resta drammatico il dato dell'astenzionismo.